Minora Rosalia, perché votare no al referendum costituzionale? Votare no perché il quesito promette alcune cose che poi la riforma ad andarla a leggere, nello specifico, non mantiene. Per esempio, bicameralismo paritario. È una bellissima idea, una istanza condivisibile. Non si realizza con questa riforma, perché al bicameralismo paritario si sostenerà il bicameralismo confusionario, caotico. Da un procedimento legislativo, noi passeremo a dieci differenti procedimenti legislativi. Agostino Aligari, perché votare sì? Voto sì perché non ne posso più di governi tecnici e governnicchi che sono succeduti nel tempo, perché il sistema del bicameralismo paritario ha comportato maggioranza diversa tra Camera e Senato. Occorre una riforma dove la fiducia venga data soltanto dalla Camera. Se fosse stato così, io che sono da parte della ditta, Bersani sarebbe oggi Presidente del Consiglio. E non ci troveremmo con questo. La riduzione dei senatori e le nuove competenze per il Senato, secondo lei, cosa comporta? Anche questa poteva essere sulla carta un'idea condivisibile, ma il modo concreto come la si vuole realizzare scippa nei confronti dei cittadini un pezzo di sovranità, perché il Senato e i cento suoi componenti, tranne i cinque di nomina presidenziale, verrà ad essere eletto con una elezione di secondo grado dai consigli regionali e non dagli elettori che invece hanno tutto il diritto di eleggere il Senato, così come eleggeranno la Camera. Stessa domanda a lei, cosa comporta la riduzione e la modifica delle competenze del Senato? 315 stipendi in meno. Ci troveremo con soltanto 100 senatori che non preciperanno stipendi oltre quello che preciperanno da sindaci e da senatori, e dal consigliere regionale. Non è vero quello che diceva l'amico Nino Rosolia, perché lo stesso testo costituzionale prevede che l'elezione avviene attraverso il confronto con gli elettori, perché è deciso in conformità a quello che decidono gli elettori per l'elezione regionale. Quindi il voto è in mano all'elettore, tant'è che c'è un disegno di legge presentato da Chiti che stabilisce come avviene il sistema elettorale di nomina dei senatori. Secondo il fronte del SIC c'è più semplificazione nell'affare delle leggi, perché secondo lei non è così? Il tutto diventa molto più faragginoso, sia sul versante del cosiddetto bicameralismo paritario, sia sul versante della riforma del titolo quinto della seconda parte della Costituzione. Ci sono tutta una serie di rimandi, tutta una serie di disposizioni, la possibilità dello Stato di intervenire con la clausola di supremazia, eccetera, che complicano le cose. Tutto ciò che riguarda per esempio la competenza regionale residuale aprirà la porta ad un'ennesima fase di contenzioso tra Regione e Stato nei confronti della Corte Costituzionale. In ordine ai risparmi, voglio dire che qui siamo proprio alle comiche. Risparmi, se l'ha detto un miliardo, saranno 57 milioni, non lo dico io, ma alla ragioneria generale dello Stato. Partendo proprio dall'ultimo punto, il vero risparmio non è tanto gli stipendi che togliamo ai senatori, ma quanto il conflitto permanente che c'è stato a Regioni adesso con la riforma del titolo quinto precedente. Finalmente, oggi, per poter fare un trasporto pesante, speciale, che parte dalla Valle d'Aosta, che dovesse arrivare in Sicilia, occorrono 10 autorizzazioni perché ogni regione avrà la propria normativa che prevede il trasporto e quindi ha paralizzato l'Italia, non solo. Ma la regione non ha mai potuto legiferare perché c'è sempre un conflitto tra queste regioni. Finalmente si crea chiarezza tra le competenze dello Stato e le competenze delle regioni e questo ci risparmio notevole perché per ora il contenzioso è elevatissimo. Non è vero, la centralità sta a Parlamento perché il ping pong per ora che c'era sulla stessa legge che veniva discussa su entrambe le regole del Parlamento ha comportato tempi lunghissimi e le leggi sono iniziato con la legislatura e forse vengono interpese dall'altra legislatura. Oggi c'è tempi certi ovunque e previste, quindi non solo. La cosa più importante è che i cittadini hanno, con i disegni di legge che per la prima volta iniziativa popolare, hanno tempi certi che venga trattato in Parlamento. Un appello finale di entrambi? L'appello finale è il seguente, il combinato disposto tra legge di riforma costituzionale e legge elettorale sposta i poteri dal legislativo all'esecutivo, dal Parlamento al governo. La legge elettorale completa il quadro mettendo la Camera nelle mani del partito, della lista e quindi del partito che vincerà le elezioni. Avendo il controllo della Camera, questo partito e il capo di questo partito, avrà una quota di potere veramente esorbitante che gli consenterà non solo di intervenire sui procedimenti legislativi, sulle leggi, ma di intervenire anche sugli organi di garanzia, cioè a dire sia sul Presidente della Repubblica che sul CSM che anche sulla Corte Costituzionale. Questa è una cosa preoccupante perché è un dispositivo politico, giuridico, costituzionale che fino a quando è nelle mani ancora di Renzi, magari ci possiamo preoccupare fino a un certo punto, ma potrebbe arrivare questo dispositivo, questo congegno da apprendista stregone nelle mani di persone che potrebbero stravolgere la nostra democrazia. Appello finale di Agostino Ligari. Appunto per le regioni che diceva, Nino, è un'occasione che non possiamo perdere. Per 30 anni ci abbiamo provato a poter modificare la Costituzione indispensabile, l'hanno detto tutti, oggi abbiamo l'occasione e non possiamo trascurare questa opportunità. Non parliamo del Comitato Disposto, non parliamo di altro, andiamo nel metodo. La legge elettorale, per la quale anch'io nutro molte proprietà, è una legge ordinaria, si può modificare in questo momento. Una legge di revisione costituzionale, così come abbiamo detto col 138, occorrono passaggi ben precisi e importanti e che non si riesce a fare in questo momento. Porta questa opportunità, il Paese torna anni indietro, si blocca completamente, non c'è possibilità di poter riformare il Paese. Il Paese ha bisogno di essere semplificato finalmente perché la prima parte della Costituzione possa finalmente avere luogo. I cittadini hanno bisogno di lavoro, i cittadini hanno bisogno di sanità. Da questo punto di vista, grazie Nino Rosalia e Agostino Liga.